Per la quinta volta tocca alle Marche e in particolare ai suoi sindaci rappresentare tutto il paese. Ogni anno, il 4 ottobre, la Basilica di San Francesco d'Assisi divenne il cuore pulsante della nazione e il sindaco di Ancona, capoluogo della regione, durante la solenne celebrazione dell'Eucarestia accenderà la lampada votiva dei comuni d'Italia che rischiara la cripta dove riposano le spoglie mortali del santo. Per un anno intero questa lampada sarà alimentata dall'olio offerto a nome di tutti gli italiani dai marchigiani. L'iniziativa, che solitamente richiama migliaia di persone, per l'enorme anticontagio sarà circoscritta a 1700 pellegrini delle diocesi e circa 80 sindaci delle Marche. A nome di tutti i sindaci italiani accendere la lampada perenne che arde sulla tomba di San Francesco è un onore, un privilegio. Io dicevo prima che la vita mi ha riservato e di cui ringrazio la vita e tutti quelli che hanno curato questo grande evento che si ripete ogni anno, ormai dal 1939. Una grande emozione perché, mi passi il termine, essere a tu per tu con San Francesco e con la potenza sul piano non solo della fede, ma sul piano della umanità, che è quella grande figura che, come dicevo prima, ha la forza di chi ha praticato il Vangelo e non solo lo ha predicato. È un'emozione fortissima che porterò come una ricchezza dentro di me, al di là del ruolo di sindaco, ma come persona. Il 3 ottobre Papa Francesco dovrebbe visitare in forma privata la tomba del Santo, patrono d'Italia, mentre alla celebrazione del 4 è prevista anche la presenza del Premier Giuseppe Conte. Sarà un'occasione, ha osservato il Presidente della Ciemarche, Monsignor Piero Coccia, per risvegliare l'esperienza della fede dal taglio francescano, ma anche per mettere a fuoco due realtà, il sisma e il Covid. Abbiamo bisogno di una ripartenza del cuore delle persone e delle convinzioni. Nel programma, inoltre, c'è anche la premiazione con la rosa d'argento di un'altra marchigiana, Angela Polselli di Pesaro. Il riconoscimento viene assegnato a persone che si sono distinte per opere di fede, speranza e carità. Abbiamo scelto una donna perché ci si è data l'occasione, ma anche per valorizzare la figura femminile. Questa è una signora giovane, vedova, colpita dal coronavirus con il decesso del marito. È una donna che a livello di volontariato ha lavorato e sta lavorando a livello internazionale. È una donna di grande fede, una donna sensibilissima ai problemi sociali e anche educativi. Ha quattro figli e quindi una donna che così ci è stata segnalata l'abbiamo presa in debita considerazione anche per un motivo di carattere educativo. Per noi questa figura è una figura che va proposta anche al mondo dei giovani sul piano educativo, in un mondo dove spesso sentiamo notizie brutte, distruttive. Ci sono anche tantissime notizie belle che vanno opportunamente diffuse prima ancora conosciute.